Da un lato l'immagine elegante, pulita e turistica del porto Marina d'Arechi, dall'altro un fiume di rifiuti in cui è stato sversato di tutto. Ad occhi nudi sembra essere una delle discariche abusive più grandi mai rinvenute sul territorio comunale di Salerno, in un'area tra l'altro anche di proprietà demaniale. I vigili urbani di Salerno giunti su segnalazione di un cittadino hanno trovato di tutto. Nascosta dalla strada, da una piccola collinetta di terra ed erba, la discarica è stata evidentemente utilizzata per disfarsi di materiale da risulta da lavori di ristrutturazione ed edilizi. Porte, finestre in vetro e legno, materassi infissi ma anche pneumatici, elettrodomestici, giocattoli, laterizi. Da una prima indagine dei vigili urbani di Salerno che hanno compiuto un sopralluogo questa mattina guidati dal comandante Rosario Battipaglia, non sembrano esserci rifiuti speciali. Il lavoro d'indagine della Polizia Municipale prosegue alla ricerca di elementi nascosti tra i rifiuti che possano aiutare i caschi bianchi a risalire ed individuare i possibili responsabili. Secondo i vigili urbani, a gennaio in un precedente sopralluogo nella stessa zona non erano stati trovati rifiuti e quindi il materiale è stato accumulato in pochissimo tempo. A fare ancora più rabbia è che ci troviamo davvero a pochi passi dall'isola ecologica di Salerno. Una brutta immagine, ce ne siamo accorti unicamente con l'assessorato all'ambiente e siamo intervenuti prontamente perché devo anche dire che a gennaio non c'era niente, non c'era assolutamente niente. Quindi diciamo che all'inizio, nonostante ci sia un po' di roba, la zona è parte demaniale e parte anche di qualche privato. Quindi ci sono indagini in corso che stiamo già esperendo e quindi andiamo avanti. Avete trovato elementi che possono in qualche maniera farvi risalire i responsabili? Al momento stiamo in una fase ancora iniziale, però valuteremo tutte le cose, tutte le ipotesi, verrà ispezionato metro per metro i rifiuti che ci stanno. Quindi andiamo avanti con le indagini.